Vigilino Yoda se lui è bravo. Poi fanno branco già da piccoli. Hanno già qualche, il loro, un pochettino già definita, nonostante siano piccoli, per esempio lei, Lady lo chiamate perché lei sta sempre in un angolino seduta che guarda tutti, tutte le scelte per le adozioni dei cani devono essere consapevoli, ma loro hanno un impegno. Perché essendo così piccolini l'impegno di pulizia diciamo e di dentini che rompono e strappano tutto è molto maggiore di uno, insomma, già un po' più grandino. Grazie a tutti.